La ASL di Chieti Lanciano Vasto ricorre a prestazioni sanitarie aggiuntive con un bando per garantire prestazioni sanitarie anche in un momento così difficile. I contagi da Covid-19 hanno infatti decimato il personale sanitario della ASL e hanno messo a dura prova l'organizzazione. L'infezione ha colpito il 10% del personale, 70 medici e 274 infermieri complessivamente. E per non penalizzare i servizi si è pensato a prestazioni aggiuntive. Abbiamo dovuto, parleva soprattutto con un avviso per fare aderire il personale sanitario sia medio che infermieristico per far fronte a questa emergenza dei contagi sul personale. Quindi noi ci aspettiamo, come è già successo in altre occasioni, una visione molto ampia del personale per poter permettere di andare a sostituire quello che il personale ha contagiato. Le domande scadono il 22 luglio, questa è una delle leve che abbiamo escocitato come strategia aziendale. Altre leve le stiamo studiando, quelle che potrebbe essere per esempio anche l'ottimizzazione del postimento in base al tasso di occupazione delle unità operative, soprattutto in alcune discipline, quando su luglio ed agosto vengono meno ridiche. Le richieste ulteriori sono quelle che hanno sempre dato, che non lo chiediamo, naturalmente al tutto quanto il personale, che in questi due anni, dopo il terzo anno di pandemia, si è sempre stato disponibile a supportare l'azienda. E quindi chiediamo veramente di fare squadra a tutti i parchi, tant'è che adesso gli avvisi non sono più le prestazioni aggiuntive unità operativa per unità operativa, ma la questione può essere, diciamo, di tutto il personale, in modo praticamente di far sentire che tutti facciamo parte di una squadra, tutti facciamo parte di questa azienda e non possiamo assoltre permettere di avere servizi essenziali, carenti soprattutto in questa fase.